La buona notizia è che la Banca Centrale Europea ha tagliato i tassi di interesse, il costo del denaro è più basso di 25 punti base, quindi come annunciato, come scontato dal mercato, la Banca Centrale Europea ha mantenuto questa promessa. La notizia un po' meno buona, se vogliamo, è che il percorso futuro di tagli da parte della stessa Banca Centrale Europea sarà accidentato, ha usato questo aggettivo Christine Lagarde, il governatore della BCE, proprio perché chiaramente il contesto, quello che si presenta su fronte dell'inflazione, è più alto del previsto. La stessa Banca Centrale ha infatti aumentato le stime di inflazione per l'anno in corso e anche per il 2025, quindi di fronte a un'inflazione non ancora stabilmente intorno al 2%, che poi è il target della Banca Centrale, la stessa non si sente confidente, non si è sentita confidente nell'andare a promettere ulteriori tagli. Quindi per ora il mercato deve prendere questa mossa come una sorta di taglio una tantum e poi si vedrà per il futuro. Questo spiega anche perché poi la reazione del mercato obbligazionario è stata non proprio positiva, infatti i rendimenti dei bond europei sono tornati leggermente a salire. A questo punto il mercato scommette sul prossimo taglio, potrebbe essere a settembre o a dicembre, ma sicuramente da qui al 2025-2026 non sta puntando su un percorso, come dicevamo prima, molto importante di tagli, sta puntando più che altro su uno scenario di tassi mediamente più alti per mediamente più tempo rispetto al passato. Staremo a vedere, ovviamente dipenderà tutto dai dati, però questa notizia comunque può allietare un po' i mutuatari o in generale i debitori, perché comunque a partire da oggi il costo del denaro nell'eurozona è un po' più basso, 25 punti bassi in meno. Quindi per esempio chi sta pagando un mutuo a tasso variabile standard di 140.000 euro, una durata di 20-25 anni, per quanto riguarda la prossima rata, anzi registrerà favorevolmente una riduzione compresa tra i 10 e i 20 euro.